Hai mai sentito parlare di Kirei e Kobido? Questo trattamento a metodo di abasi non è solo un massaggio al viso, ma è un vero e proprio rituale. Nasce infatti dalla richiesta di un'imperatrice giapponese nel lontano 1472, che desiderava un trattamento che preservasse e migliorasse la sua bellezza. Ordinò così che venisse sviluppata una nuova tecnica. Ciò che deriva da questa richiesta è un trattamento al viso con un metodo sorprendentemente efficace. Kirei significa bellezza ed è una pratica che dona alla pelle una nuova vita ed ha una sensazione di rilassamento e abbandono. Kobido significa giovinezza e nella cultura giapponese questa pratica è volta a equilibrare corpo e mente. Agiremo sull'elasticità della pelle donando un effetto lifting, il tutto senza ricorrere a medicine, interventi chirurgici o infiltrazioni. Inizieremo andando a detergere il viso con prodotti totalmente naturali. La prima fase del Kirei è fatta di manovre avvolgenti che coccolano il nostro viso, verrà applicata una maschera in base alla funzione che desideriamo ottenere per la cliente e durante la posa andremo ad effettuare delle digitopressioni su diversi punti del corpo volte a sbloccare energeticamente. Inizieremo poi la fase del Kobido che è fatta di manovre più energiche che avranno un effetto liftante e tonificante sulla persona. Finiremo con l'applicazione dell'acqua profumata che creeremo con i nostri oli essenziali della linea di abasi essenzia. Perché non viene a provarlo? Grazie a tutti.